dunque ciao a tutti video unboxing avon intanto volevo far vedere dunque ciao a tutti video unboxing avon i pacchi li ho già aperti per vedere se c'era dentro tutta la roba e di fatti purtroppo mancano due matite ho già contattato l'azienda e vediamo cosa mi risponderanno intanto vi volevo far vedere quello che mi è arrivato nel pacco di campagna 3 l'ultimo ordine che ho fatto mi è arrivato un catalogo di campagna 4 questo qui tutto matt un catalogo anche di campagna 5 questo qui con il mark gel davanti più i soliti avon tutto per te allora questo è supplemento del catalogo si sia fatta l'orecchietta scusate eccolo qui all'ottanta per cento di sconto questi prodotti più ecco scusatemi ma lo sto tirando fuori dalla mia borsettina lavon campagna 5 tutto per me eccoli qua e quest'altro piccolo cataloghi no ecco poi intanto passiamo all'unboxing scusatemi casino che sentite anche sottofondo allora questo il primo pacco eccolo qui mettiamolo qua qui è arrivata tutta la merce o almeno quasi tutta abbiamo questo tappetino di silicone per il forno qui c'è da mettere in forno da lavare con su dei bicchieri e per come tagliere forse per la mia cliente di questo bellissimo giallo i prezzi non me li ricordo li ho già messi via nella per il pagamento della della bollettina poi abbiamo le scusatemi e arrivo subito sto prolungando per prendere la roba queste micro perle avon globe adesso le apriamo scusate il tremolio dove si aprono vediamo accide polina sono belle dure usate date che bel packaging bellissime wow avon globe con la spugnetina così ed eccole qua bellissime mettiamo subito dentro che le devo consegnare nei prossimi giorni e questo era il primo pacchettino per le clienti mettiamo subito via perché altrimenti combino uno dei miei soliti disastri mi mi perdo la roba io sono sono una catastrofe poi qua ci sono anche dei campioncini adesso li ho visti e porca miseria adesso li ho visti adesso vediamo quali sono mettiamo dentro scusate tremolio ma sto reggendo il cavalletto poi allora i campioncini sono questo qui che profumo è scusatemi ma non riesco a vederlo ma si capisce avon cosmetics england sarà scritto di dietro ivy confidence più rischiamo quest'altro questo non si vede mi sa difatti sarà scritto da quest'altra parte sono girati sono girati che non posso leggerne il il nome forse vediamo questo non sono girati fa niente allora poi abbiamo per un'altra mia cliente il porta scarpe questo qui fatto in questo modo bello comodo bello più il reggiseno scusate con questo pizzo così non voglio aprirlo per una questione di igiene bello grande senza il ferretto un po imbottito con questo pizzo meraviglioso eccolo qua non so se riuscite a vederlo penso di sì poi come dicevo ci dovevano essere le matite della mia cliente ma non ci sono e quindi vedremo quando e se me le manderanno poi questi che sono gli appendi abiti per l'armadio ecco qua come si utilizzano della domo pack living si appendono gli stivali nell'armadio canci con pinza forte l'idea vediamo cos'è questo catalogo campagna 4 ecco qui corrigi online si beh è un loro comunicato allora intanto vi faccio vedere quello che ho ordinato per me allora ho ordinato questo rossetto della color trend vediamo se riesco ad aprirlo per la miseria che è il colore amethyst eccolo qua wow che bella nuance proprio anche primaverile non è troppo scura né troppo chiara bella molto molto bella poi allora mettiamolo qua così questo l'ho già utilizzato ed è un Avonmark Spellbound si chiama eccolo qui molto molto forte a me piacciono queste tinte così molto molto viola alla me poi vediamo anche quest'altro sempre di Avon è per la miseria ecco qui non è color trend ma è della Avon True questo qui molto molto sfumato la tenuta è abbastanza buona e si chiama Plum Perfect ecco qui poi questo l'ho preso ora Dream Fuchsia non l'ho preso adesso scusatemi mamma mia sono rimbambita bellissimo anche questo però purtroppo l'ho preso un po' di tempo fa e si è rotto accidentalmente quando mi è caduta la borsa poi ho acquistato questa matita della Avon True Color Grimmel Stick e sarebbe la Blackest Back scusatemi il mio inglese schifosissimo eccola qui sì la tenuta devo dire che è eccezionale ecco qua come scrivente mi piace mi piace a me piace ok adesso lo rimettiamo dentro nella sua confezione l'ho ripresa perché mi è piaciuta poi vediamo quest'altra c'era anche la Violet non vorrei fosse finita e se di fatti è qua sotto sono disordinata questo lo so lo riconosco allora Hot Pink nuovissimo sempre della Avon True vediamo com'è wow fabolus sì ho la luce che fa schifo e sto reggendo il treppiede vicino al tavolino scusatemi tremoli favoloso andiamo sperlucicoso sì sì mi piace mi piace mi piace poi farò tutte le mie storie di Instagram sì non sono quella gran bellezza lo so però dopo tutto ah quest'altro si chiama Bronze wow bellissimo anche questo sberluccica proviamo ci piace assai mi piace mi piace mi piace le nuance sono abbastanza bellissime allora questa è l'altra matita quella Violet Mark stavolta ed è la Deep Violet vediamo com'è questa non l'ho mai provata con lo sfumino dietro sì allora vediamo si è già spuntata la punta beh però è bella come colore a me piace devo dire che tende un pochettino di più al marroncino o forse questo effetto della luce qua che mi fa un po' schifino però mettiamola di nuovo a posto per il momento e vi farò vedere sugli occhi come sarà ho dimenticato di switchare questi altri vabbè questo lo so vediamo quest'altro questo qua l'abbiamo provato prima lasciato aperto vediamo questo il coral trend sì ci piace anche questo qua oddio bisogna passarlo 700 volte sì mi piace mi piace mi piace a dopo me lo metto plump perfect questo qua è quello che sto mettendo in questi giorni quale mancava ma quale mancava ma quale mancava lot pink vediamo bellissimo sempre che non mi sia venuto l'alzheimer per il momento operavo né tutto poi ho anche questo sì l'ho già messo oddio la durata non è che mi ha fatto impazzire secca leggermente no turing nude si chiama questo qui c'è scritto sopra quindi devo dire che questo qua è più rosato mentre questo è più sul dorato però mi piacciono entrambi eccoli qua allora per il momento è tutto io ringrazio Last Blue per la richiesta del video spero di essere stata soddisfacente lo so non sono una youtuber molto 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 bravissima e organizzatissima sono disordinata al massimo non mi faccio vedere perché ho i capelli che sono orripilanti ci vediamo al prossimo video vi invio comunque un bacio a tutti vi ringrazio ciao Last Blue ciao Sara ciao a tutto il media world di Arese ciao ragazzuoli ciao ciao